Il nerd Come ti ho messo? Grandi! Relogs! Papa Relogs! Ciao! Ciao bello, come vieni? Bene. Bello vederti senza gesti, cose, stecche. Parker? A Brugla? Sì. C'è il Lego, ora mi monta e mi risponde. Con la Panda sono come si trova, eh. Ma come hai raggiunto il Banta a partire oggi? Eh? Ma com'è il Banta a partire la Panda? Ma è lui solo l'unico che non ci crede, la mia Panda è ovunque. Quanto c'è ti ho messo? Quanto c'è ti ho messo? Da Giostre quella Panda. Quanto c'è ti ho messo? Beh, abbiamo trovato traffico al Barberina, ho messo quasi 9 ore di viaggio. Ciao. Dobbiamo metterci 7 ore. Se ne ho messo 9 ore ci siamo fermati. Poi non capisco chi fa rap, qual è la cosa che lo riempie d'orgoglio. Ma io quando lei consiglio, mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Oh, ma proprio mescolò le lacrime. Guarda tu che cazzo sono riuscito a farlo. E quelle emozioni lì non c'è. Uno dice, io ho fatto 50 persone, ma si cazzo da gente ai concerti. Ma io che un genitore, se guarda quello che dice il figlio e lo segue e oltretutto scrive a me in privato. Ma io ho vinto. Ma non mi frega niente quello che io ho vinto. Puoi vedere anche una copia. Io ho vinto. Vendo una copia non mi frega il cazzo. Ma se io ho osservato quella cazzo. Ho la stima di un genitore. No. Come viene quel signore che cacciava la moglie col fioletto? Quante anni c'era? 10 anni? 7, 8 anni? Oh, l'ha portato qui che questo è proprio un pazietto. Il padre mi ha portato con la madre. Guarda ecco. Oh, la nipote. Cioè a me mi fa piacere questo. Se cambia la gioventù significa che allora è questo. Deve cambiare il modo di pensare della gente. Capisci? Deve cambiare il gusto della gente. Beh, il gusto. Ma quello però se... Io non so, parla pure con tanti. E pure vedi quello che sono fatto. Basta, è inutile fare. Le battaglie altre... L'idea... Non va bene così. Io non so capace di conchiudere. Te do il numero di telefono. Senti, c'è il problema. Non mi voglio chiamare. A me quello mi ha chiamato subito. Dopo venti minuti. Mi ha chiamato. E mi ha detto guarda scusa. Che gli devo dire? Uno che ti dice scusa. Leggata le brache. Ho sbagliato. Ma io... Dice che era morta. La ragazza devono essere amministratore. Dice ho sbagliato. Ma non ci ho fatto a seguito. Ti chiedo scusa. Io so che tu sei reale. Alla fine se volevo conosci. Io sto due mesi in ospedale e non mi alleno. Ecco il fisico mio. 100 kg. Eh, che gli devo fare? 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 Io scrivo le cazzoni. Come nell'album nuovo. Stai scrivendo? Io scrivo le cazzoni sull'invidia. Dico proprio questa immagine di me cattura consensi. Quante voci che ti sembrano lamenti. Nel bene o nel male intanto tu ne parli. Fai sorrisi falsi a quella gente che ti giudica. E' patetica. Non vince la partita e la sua vita non ha senso. Essere un campione se l'erba del vicino per te è sempre la migliore. Io rido quando piove. Tu piangi se c'è il sole. E' per questo che stai male. Pensa quando usciranno queste canzioni. La gente si butta dalla finestra. Dette così. Pensa lì col flow. La gente si butta dalla finestra. Perché dici questo... Arrivato noi lo cercamo di distruggerlo. Io già ci sono arrivato. Io ti distruggo prima che tu provi a attaccarmi. Perché io so qual'è la vita mia. So quali sono stati autori miei. So qual'è la mia realtà. E' il campo dove... Soprattutto... Ecco il fisico mio. Ecco il fisico mio. Due mesi d'ospedale. Operato il 12... Vai. Due trepuntorene. 12 giuli. Cosa? L'etichetta? Te etichetta no? Quando passi col codice a barre. Sanno quanto costi. Ti faccio. Guarda. 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 Queste si bomba di pastiglie. Adesso è una che non c'è sempre. Adesso sono pochi. Si prendeva di più. Ah si? Mi stai facendo lo scalare. Che so questo. Che mi stai andando? Che è questo? Bombe atomiche? Più o meno. No. Perché li vogliono una faccia del ponte. Io non ero tutti gli amici li valgono. Eh? Capito? L'ipocrisia della gente pronta lì. Che non è che invece le dì. Porco giuda. E' questo che pure il suo regista ha detto. Perché crea la storia. Dice. Ma una volta che in Italia. C'avemmo una storia. Una situazione. Un personaggio. Dove messo a parità. Con quelli che hanno fatto film e storie. Pure in America. Dice. La storia tua è cento volte più forte di quella che può essere. Noi non è che lo spingiamo. Lo vogliamo sbrassare. Perché da invidiosi dicono. Oh no. Oh ferma. Non può essere. Quello che. Le critiche che hai. Sono fatte sul flow. Sul rap. Ma sulla verità delle tue storie. No no. Non possono contestare. Ma infatti. Ti contestano la biografia. Ma la cosa che. Bravo. Bravo. E' un impatto. E' troppo forte. Bravo. Quelli se dice. Oddio. Ma come cazzo fanno a sentire. Quello. Quella. 50. 50. 50. Ma come cazzo. Come faccio gli addi. Ma mica. Se io. Ma faccio gli addi. Ma faccio gli addi. Ma come faccio gli addi. Che sono fan di club. Come faccio gli addi. Che sono fan. De fabbi fibra. Come faccio gli addi. Che sono fan. De nesli. Come faccio gli addi. Che sono fan. De molto maggio. Come faccio. A dire. Ma non. Ma mica. Perché io ce l'ho con loro. Ma di chiunque. Del truce clan. Chiunque. In italia. Non si può. Paragonare a me. Allora. Chi è fan mio. Si può essere solo orgoglioso. Perché. A parità. De discussioni. E di argomenti. Io vinco sempre. Loro. Dio. I club dopo. Ci hanno. Un fluo. Da paura. Perfetto. Il truce clan. Noiz. Da paura. Perfetto. Fabbi fibra. Rap. Da paura. Perfetto. Che. Io. credo. Per me. E' quello. Poi. Ma. Se. Nel giro. Se. Io. Se. Quello. Che. Se. C'è. Un. Album. De quattro. Tracce. Che. Era. Lì. Ma. Aspettiamo. Che. Magari. Ne. Posso. Un altro. Io. Ho. L'anni. Da parte mia. Che. Posso. Migliorare. Loro. Che fanno. Lo sai che sono costretti a fare. A smettere. Levasse. Dalle palle. A costasse. Ma. Loro. Ma. Loro. Ma. Poi. Non è che. Io. Potrei fare un rap. Che io farei un album. De quindici canzoni. De quindici canzoni. E fa quindici canzoni. Che sta. Vincerei in tutte e quindici canzoni. E distruggerei. Invece. Non lo faccio. Io faccio un album. Oh. Parlo. De. De la politica. Parlo. Dei problemi. Della chiesa. Enzo. Emo fatto una canzone. Proprio. Emo fatto. Un remix. De che sta. Dove io. Lascia perde sta vita. Street life. Risparmia di sta pena. Credi a me. Questo gioco. Non vale la candela. Cioè. Cerco. Non era solo la galera. Perché. Quello. Io. Ce l'avevo messa in preventivo. Quando ho scelto. De farsa. Sa scelta. De vita. Sapevo. Che prima o poi. Mi sarebbe toccata la galera. L'ho fatta. Quando è giusto. Che ho sbagliato. L'ho pagata. Poi. È normale. Che io. Vado contro. Quando l'ho fatta. Che nato. Fa. E quella. È la mia protesta. Non è che io protesto. Su quello. Che ho sbagliato prima. Perché la. Mi dite. Bro. Ma la. Che fai. Fai le cose. E poi. Depenti. Di reati. mia. Io sono andato a fare i processi. Lo sai. Ho detto a Giulio. È tutta roba mia. Io. Sono colpevole. Si. Devo pagare. Devo fare la galera. Quanto è? Come? Si si. Pago. Ho fatto. Ho sbagliato. Pago. Pago. Sono andato due volte carcerato. E me la sono pagata. La terza volta. No. Non ho fatto niente. Tu non mi devi arrestare se faccio niente. Arrestami giustamente se io faccio qualcosa. Ma dopo però. Ti diventa una vita. Che sapendo pure che tu stai a fare. Una vita. Chiamiamola destrata. Tra virgolette. No. Che magari lavori in discoteca. Fai sicurezza. C'hai un contatto sempre. Sempre castrato. Io. Non dormivo più la notte. Mi sentivo sempre che stavo tipo in. Come ti posso spiegare. In fallo. Dormivo. Non dormivo più. La paura che venivano da un momento all'altro. A farmi perquisizioni. Voi. Eppure. E. La cosa. Veramente. Tu un po' la sai. Adesso. Io. Ho difficoltà. Credo che. Chianti gente. L'ha capito. Eppure nella biografia. Che io ho scritto. Quando il momento. Che potevo specifica. I reati. Che io ho fatto. E che ho pagato. Ho scritto. Preferisco non ricordare. Perché se io. Dovrei ricordare. Tutte le cose. Che io ho fatto. E usciranno. Nel film. Che io ho fatto. I cose reali. Se io dovrei. Ricordare. Tutte le cose. Che ho fatto. Me prende a male. Me prende a male. Perché io. Non voglio. Far vedere. Quelle cose. Di me. Ma io voglio. Che la gente. Mi conosce. Per quello. Che io sono. Poi. Quello che ho fatto. In passato. Chi è stato. Realmente. Vicino a me. Lo sa. Quanto io. Ero forte. In determinate. Situazioni. E sa. Dove. Mi sono spinto. In determinate. Situazioni. A me. Non mi devono. Ciudicarsi. Quattro. Ragazzini. Poi. Ordi. Cosa. 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 Cosa.